Benvenute e benvenuti a questo incontro che appunto è la notte. Intanto voglio ringraziare le volontarie e i volontari di Radio Sherwood che hanno permesso che facessimo l'incontro qui. Voglio ringraziare anche chi si sbatte appunto per il lato tecnico e perché sia possibile l'incontro e anche la registrazione di questo incontro. Allora, intanto parto col dire che questo non è un seminario accademico anche se siamo compagnie di ricercatori universitari e quindi mi perdoneranno se non avrò un lessico specifico appropriato. La necessità di parlare di queste tematiche qui nasce soprattutto da delle riflessioni personali e collettive in questi tempi. insomma non è necessario dire in quali tempi viviamo e il problema che insomma era specifico è la necessità di trovare del tempo per costruire uno sguardo lungo e largo nel tempo e nello spazio che non fosse relegato al contingente. Viviamo quella che in un'epoca che insomma è chiamata di infodemia o io dico di bulimia di informazioni. Siamo circondati di informazioni ma non riusciamo a ritagliare del tempo per formarci specificatamente e puntualmente sulle caratteristiche del mondo che viviamo. La differenza tra informazione e formazione per me è la stessa che passa tra subire la cronica e provare a scrivere la storia con un senso teleologico del presente. Nel capitalismo contemporaneo chiaramente è fondamentale la logistica ma è sempre stata fondamentale in realtà e quello che ha cambiato è la sua capacità di abbracciare globalmente tutti gli aspetti della produzione. È stata infatti l'infrastruttura che le infrastrutture logistiche globali hanno reso possibile l'integrazione mondiale del commercio tra approvvigionamento di materie prime produzione, assemblaggio e vendita quella che è chiamata la catena del valore globale. La globalizzazione è stata un po' il sogno della pacificazione del capitalismo dopo la caduta del muro di Berlino. Chi di noi ha vissuto gli anni 90 insomma li ricorda come tempi di uforia non solo economica ma anche sociale è dovuta a questi nuovi cambiamenti che venivano tant'è che filosofi come Fukuyama dall'obusata citazione parlavano di fine della storia per la sopravvenuta capacità di questo capitalismo eterno capitalismo eterno che però dopo 30 anni mostra importanti scricchioli. Per fare un po' il punto su cosa ha reso anche possibile la globalizzazione sono stati fondamentali gli accordi di Bretton Woods che hanno sganciato il dollaro dall'oro permettendo appunto alle banche centrali di stampare moneta e i trattati di libero commercio che permettono lo spostamento di merci e capitali liberamente. Un altro concetto che è importante nella costruzione ideologica e infrastrutturale della globalizzazione è il concetto di just in time cioè la tendenza a non avere nel magazzino merci e produrre immediatamente le merci in risposta alla domanda. Ciò è stato possibile ovviamente a delle rivoluzioni a delle tecniche che si sono sviluppate come appunto la nascita del container e la standardizzazione del container e la rivoluzione digitale. Il capitalismo sappiamo insomma abbiamo imparato che è un sistema che è ontologicamente costruito cioè ha le basi ontologiche la sua crescita infinita in un mondo che però è finito e tende a generare crisi e a creare nuovi campi di valorizzazione attraverso questa crisi. Questo diciamo è stato evidente durante il periodo della pandemia da cui comunque non siamo ancora usciti che sicuramente è stata determinata anche dallo sviluppo urbano incontrollato e lo sviluppo urbano è determinato dalla necessità di produzione e spostamento di persone merci chiaramente e dallo sfruttamento intensivo delle vite animali. La pandemia però oltre a essere stata generata da dinamiche interne al capitalismo è stata anche quella che ha determinato anche ulteriori crisi della circolazione perché il lockdown di città intere vediamo adesso Shanghai mette in crisi il concetto di just in time. Vediamo si palese in queste situazioni la contraddizione tra bios tra la vita tra la necessità di tutelare la vita la nuda vita e le necessità di estrarre valore. Le quarantene chiaramente l'abbiamo visto anche in Italia rendono difficili la garantire la continuità delle filiere abbiamo visto come in maniera abbastanza truffaldina e meschina molte aziende cambiassero durante la pandemia i codici Ateco per continuare a produrre. In più la fragilità di questo sistema si è palesata quando due anni fa la nave Evergreen che è sulla locandina del nostro evento si è messa di traverso nel canale di Suez e gli analisti disperati dall'emergenza della pandemia e in più di fronte al blocco di una delle fondamentali vie di commercio globale si sono messi le mani sui capelli perché questo semplice impedimento generava 20 milioni di dollari di perdite l'anno causato la caduta della borsa per una settimana poi è stato risolto però l'Evergreen è il simbolo della scalabilità cioè della continua crescita infinita del capitalismo che non tiene conto dei limiti esterni chiaramente durante la pandemia abbiamo imparato anche l'utilità e la necessità di strumenti digitali che ormai ci accompagnano quotidianamente in molti campi della nostra vita che sono quelli delle piattaforme digitali e in particolare della consegna delle merci nell'ultimo miglio la nascita delle piattaforme è stata sia un salto in avanti sicuramente nella 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 capacità di estrarre valore nella produzione e riproduzione sociale ma è stata anche un avanzamento della mistificazione neoliberale dell'imprenditore di se stesso tu hai una bici e consegnando le pizze puoi diventare forse ricco non si sa e ovviamente quello che ci interessa anche qui in questo campo qua così come nel campo della logistica è capire quali lotte quali conflitti e quali possibilità di organizzazione si generano all'interno di questi settori come questi settori cambiano anche il nostro modo di vivere producono soggettività all'interno delle città e anche la possibilità di costruire alleanze probabilmente possiamo parlare di una nuova composizione tecnica di classe ma chiaramente i lavoratori della logistica che hanno espresso un altissimo livello di conflittualità in questi anni ricordiamo Adil che è stato ammazzato dai padroni appunto perché lottava e scioperava e picchettava un magazzino o un supermercato della Lidl insomma riprendendo un po' la scusatemi riprendendo un po' il discorso sul scenario internazionale uno dei presupposti della globalizzazione è stato appunto lo sganciamento del dollaro dall'oro la possibilità di stampare moneta della Federal Reserve e il fatto che negli anni 70 per cercare di ovviare la crisi interna agli Stati Uniti ci si sia l'elite capitalistiche si siano rivolte alla Cina facendola diventare come sappiamo un po' la fabbrica del mondo Cina che appunto durante la crisi del 2008 si è ritrovata di fronte alla necessità anch'essa di generare debito e stampare moneta ma la dirigenza del partito Stato della Cina si era già conto che era necessario cambiare paradigma per cui all'interno perché ricostruiamo la genesi di questi rapporti sin dagli anni 70 perché ci spiegano il perché degli attriti delle guerre commerciali contro la Cina la Cina sta cercando di risalire le catene del valore globale di appropriarsi di know-how che gli Stati Uniti fino ad ora hanno tenuto per avere un potere politico e commerciale sulla Cina e questo ovviamente genera delle tensioni perché gli Stati Uniti agiscono il loro potere politico per evitare che la Cina si impadronisca delle tecnologie attraverso le sanzioni e la Cina allo stesso tempo costruisce nuove vie di commercio come appunto la via della seta e ha costruito un'alleanza diciamo non un'alleanza di destino ma un'alleanza per comunanza di interessi con la Russia e qui arriviamo forse anche a spiegare un po' il conflitto che stiamo vedendo in queste ore ne parliamo quindi oggi con Niccolò Cuppini ricercatore alla SUPSI Maurilio Pirone ricercatore all'Università di Bologna entrambi attivisti componenti del collettivo Into the Black Box e Giorgio Perina ricercatore a Ca' Foscari va bene innanzitutto grazie mille per l'invito mi fa ci fa molto piacere essere qui questa sera io parlando un po' prima con Maurilio e Giorgio l'idea è di fare anche un po' un dialogo sia fra di noi che magari anche rispetto a eventuali insomma domande considerazioni quindi sarò breve provando a proporre alcuni punti di vista alcune prospettive sono stati citati all'introduzione due punti che sono a mio avviso decisivi quindi li riprenderò e in conclusione provo a dire alcune cose più sul piano politico della militanza dell'intervento politico oggi e chissà magari anche dei prossimi tempi prima parola chiave globalizzazione in queste settimane sia sui giornali che i vari intellettuali commentatori stanno dicendo la globalizzazione è finita siamo nel momento della deglobalizzazione siamo nel momento in cui si ritorna agli stati in azione c'è chiaramente un pezzo di verità in questo discorso ma al contempo secondo me bisogna stare un po' attenti quantomeno a cosa intendiamo per globalizzazione giustamente si diceva non vogliamo fare un seminario questa sera vogliamo fare più una discussione permettetevi proprio brevemente di sintetizzare un po' anche per conquistare profondità storica a questo discorso globalizzazione capitalistica di questo stiamo parlando due ce ne sono state nella storia la prima è la fine dell'ottocento il primo novecento è la globalizzazione che viene costruita dal telegrafo dalle ferrovie e dalle grandi fabbriche si dice globalizzazione perché tra il 1870 e i 40 anni successivi c'è un aumento gigantesco di scambio di merci a livello globale che si infrange sulla prima guerra mondiale quindi quella è la prima globalizzazione e per decenni e decenni successivi dobbiamo arrivare agli anni 80 del novecento non si raggiungono più quei livelli di scambio costruiti in quel periodo storico quindi questa è la prima globalizzazione che ripeto si infrange sulla prima guerra mondiale e di nuovo costruita da telegrafo trasporti fabbriche e questo è l'elemento importante che riprendo anche dopo un movimento di milioni e milioni di proletari di persone per tutto il mondo dall'Italia dal Veneto in particolare il Veneto in quell'epoca lì milioni di persone centinaia di migliaia di persone dal Veneto milioni a tutta Italia si spostano per il mondo in cerca di una vita migliore la seconda globalizzazione già nell'introduzione se ne accennavano alcuni tratti siamo a metà fine degli anni 70 succedono tante cose non le sto a riprendere in particolare c'è un momento politico decisivo siamo tra il 79 e l'81 in Cina nel Regno Unito e negli Stati Uniti vanno al potere tre figure Margaret Thatcher Donald Reagan e Deng che imprimono la cosiddetta svolta neoliberale e quindi si apre questa seconda globalizzazione liberalizzazione dei mercati eccetera e di nuovo appunto c'è un aumento dello scambio globale di merci quindi la logistica eccetera adesso le tecnologie non sono più il telegrafo le ferrovie e le prime fabbriche le tecnologie adesso sono la rete internet che si sta iniziando a costruire sono le grandi infrastrutture globali come le navi porta container e gli aerei sono i nuovi sistemi di comunicazione sono la grande la finanza che diventa dominante ecco quella globalizzazione lì gli anni 80 che poi con lo si citava prima la fine dell'unione sovietica e gli anni 90 arriva un'impennata in qualche modo ha un suo punto di grave crisi tra il 2000 e il 2001 da un lato è una crisi soggettiva anche che come dire a livello di movimenti viene espressa da quello che era il movimento no global o alter globalista quel potentissimo ciclo che da Seattle attraversa l'Europa arriva a Genova da 2001 Carlo Giuliani quindi c'è anche un'istanza rivoltosa dentro quella crisi lì ma sicuramente quella globalizzazione va in crisi perché da un lato c'è la grande crisi delle cosiddette dot com cioè le piattaforme digitali che si iniziano a costruire in Silicon Valley in California nelle anni 90 hanno una grossa crisi finanziaria nel 2000 e poi c'è l'11 settembre quindi abbiamo questi tre livelli crisi soggettiva crisi diciamo così tecno finanziaria crisi geopolitica dal 2001 ad oggi c'è un'altra storia che probabilmente va ancora scritta a pieno va ancora indagata a pieno è una storia che negli ultimi dieci anni ha visto emergere i cosiddetti populismi è una storia che ha visto una crisi finanziaria violentissima nel 2007 2008 dagli Stati Uniti poi riversarsi in Europa ma anche lì c'è l'elemento della mobilità che diventa costitutivo del presente mobilità che vuol dire migrazioni e con migrazioni io qui lo dico da un punto di vista politico migrazioni intese come autonomia delle migrazioni intese come desiderio di milioni di persone di spostarsi e conquistarsi condizioni di vita migliori col covid che è una crisi globale il virus si è trasmesso così velocemente perché oggi dalle foreste che vengono mangiate dall'accumulazione capitalistica alle metropoli c'è una linea di continuità delle catene logistiche che hanno fatto circolare il virus velocissimo e la guerra appunto pone un momento di svolta quindi siamo in un momento di grossa instabilità e di grossa transizione in cui già la parola crisi oggi boh ha ancora senso parlare di crisi crisi ecologica crisi finanziaria crisi economica crisi bellica crisi pandemica crisi sociale è davvero crisi la parola giusta per me no e qui arrivo al secondo punto dicevo prima no vi ricordate prima globalizzazione elemento tecnologico elemento soggettivo oggi si parla e scusate e quella prima globalizzazione lì era la spinta della rivoluzione industriale la rivoluzione industriale quindi da fermarsi del sistema mondo capitalistico la fabbrica eccetera eccetera Marx che ne parla a lungo oggi si parla sempre di più di una nuova rivoluzione industriale la cosiddetta rivoluzione industriale 4.0 internet of things automazione robotizzazione iperconnessione questo immaginario dei ricchi Elon Musk Jeff Bezos che dicono andiamo a costruire l'industria sulla luna che dicono andiamo a terraformare a colonizzare Marte o Mark Zuckerberg che dice in un altro modo conquistiamo colonizziamo un nuovo spazio che non è quello interstellare ma è quello intensivo il metaverso la realtà aumentata quindi siamo dentro questo scenario in cui sta cambiando tutto in cui tutta questa serie di tecnologie viene applicata alla produzione alla distribuzione e al consumo e dentro questo scenario sorgono delle domande politiche perché è evidente qui vado verso il terzo punto per concludere è evidente che oggi dentro appunto questa costellazione di crisi tra virgolette dentro questo scenario di profondissima trasformazione individuare dei punti di attacco dei punti di antagonismo dei punti di alternativa degli elementi di soggettivazione nuova delle istanze di rivolta delle istanze di trasformazione non è facile ma come dire non vuole essere ovviamente assolutorio come insomma c'è tanto da fare c'è tanto da immaginare c'è tanto da costruire ma credo che vadano assunte fino in fondo le due ipotesi che dicevo prima ossia da un lato un momento di rivoluzione industriale che trasforma lo scenario e qui appunto riguardiamo la storia perché c'è delle volte il rischio negli ambienti nostri penso di poterlo dire di pensarsi sempre un po' allo stesso punto per cui in fondo fare politica negli anni 70 negli anni 90 o negli anni 20 il nuovo millennio più o meno i problemi sono sempre quelli sì da un lato sì per carità delle invarianze delle continuità ci sono però poi cambia tutto essere in un momento in cui c'è una rivoluzione industriale in corso cioè se uno va a guardare quando scriveva Marx insomma lo scenario è diverso essere quando la fabbrica inizia ad affermarsi o quando la fabbrica diventa un'altra cosa è diverso stare in un mondo in cui gli anni 90 in cui certo c'erano le prime l'idea del primo internet che si affermava l'idea delle grandi multinazionali che si affermavano oggi però siamo nel 2022 e siamo dentro un cambio di paradigma radicalissimo quindi questo era un po' di come dire considerazioni di framework di riquadro che volevo portare ripeto vado sull'ultimo punto secondo me è interessante oggi anche provare a mettere un po' in discussione un po' a verifica alcuni paradigmi alcuni modi di pensare con i quali eravamo abituati uno di questi è quello che era uno slogan del movimento no global di ormai più di 20 anni fa che diceva agire locale e pensare globale oggi cosa vuol dire locale e cosa vuol dire globale probabilmente questa dicotomia questa differenza questa scala questo salto locale globale funziona ancora secondo me no secondo me oggi pensare il territorio o meglio la territorialità le territorialità cosa sono oggi i territori è un qualcosa che separarlo dalla dimensione del globale non funziona non capiamo se pensiamo il locale e il globale oggi in qualche modo i territori sono lo specchio del globale e il globale è lo specchio dei territori questo forse Giorgio dirà qualcosa in più su questo dopo però anche la guerra in Ucraina in qualche modo se la pensiamo come istanza locale che dal globale arrivano i cattivi e fanno le cose lì non funziona ma al contempo se la pensiamo semplicemente a rovescio non funziona neanche quello in qualche modo pensare oggi politiche strategie rivolte nel nostro nel nostro tempo credo ci ponga appunto di fronte a come misurarci con queste grandi trasformazioni della rivoluzione industriale del globale che appunto non è quello degli anni zero non è quello degli anni 90 non è quello degli anni 80 non è quello dell'800 è un'altra roba quindi ripeto volevo fare più un primo intervento poi per dialogare anche con con Moriglio Giorgio e chiunque voglia interagire però secondo me iniziare a riformulare delle coordinate e ripensare la politica ripensare il politico anche appunto all'altezza di uno scenario nuovo che si apre con l'entusiasmo di uno scenario nuovo che si apre in cui dare battaglia dentro e contro dei processi che sono a loro modo nuovi che aprono delle possibilità assolutamente nuove secondo me è un qualcosa di cruciale strategico un appunto finale poi passo la parola con Into the Black Box che è un percorso di ricerca di ricerca politica che da alcuni anni stiamo portando avanti nell'ultimo anno abbiamo ragionato molto su Amazon Amazon è su Amazon perché Amazon in qualche modo è un impero un impero globale che si scontra con altri imperi globali del commercio è un impero globale che mette in tensione sfida i territori sfida le statualità sfida i poteri consolidati e spesso tra i compagni e le compagne c'è una tendenza un po' moralista quasi di critica cioè oh mio Dio sia Amazon è brutto siamo tutti d'accordo eccetera eccetera e siamo d'accordo nel senso ovviamente nessuno qua sta dicendo viva Amazon però nelle inchieste che stiamo iniziando a portare avanti emerge un qualcosa che proprio in queste ultime settimane abbiamo fatto un po' di interviste a lavoratori lavoratrici di Amazon soprattutto a Bologna in particolare soprattutto persone molto giovani di 20 anni 21-22 anni e ci dicono sì però nel senso sì è ovvio Amazon ti fa un'intensità di lavoro che ti spacca la schiena però al contempo dentro Amazon è meglio che in tante altre parti perché ti pagano meglio perché ti fanno lavorare un po' menore ecco secondo me è il punto di provare a riformulare una critica sul presente che abbandoni un'istanza moralista che abbandoni un'istanza in qualche modo che guarda indietro ma proviamo a iniziare a guardare in avanti c'è una rivoluzione industriale in corso c'è un terreno del global locale che si sta rimodulando in maniera velocissima cerchiamo in maniera collettiva di trovare come dire delle tracce delle traiettorie delle prospettive per appunto riformulare una critica una prassi politica che però sia in grado di conquistare un presente guardando in avanti e guardando anche le potenzialità dei modelli attuali non solo a come dire i limiti e le crisi Nicolò ha fatto un po' un diciamo un affresco rapido però di un processo quello della globalizzazione che è super attuale in questo momento e ha terminato il suo discorso un po' su Amazon come attore globale che costruisce in qualche modo una sua visione di mondo materiale e simbolica e a partire da questi elementi mi aggancio a Nicolò mettendo un altro elemento che è appunto quello del digitale della cosiddetta rivoluzione 4.0 capitalismo delle piattaforme e via dicendo qual è il legame con quello che diceva Nicolò fino adesso la prima cosa c'è la tendenza a pensare a queste tecnologie semplicemente in termini tecnici una soluzione migliore di un'altra occultando quelli che poi sono invece dei rapporti di potere che vengono condensati all'interno di alcuni strumenti mi spiego le piattaforme non sono semplicemente una forma di impresa che utilizza management algoritmico gps per far funzionare il processo produttivo invece che ad esempio il controllo di una persona in carne ed ossa il conteggio dei tempi di produzione e via dicendo sono un modo diverso di riorganizzare i rapporti di produzione all'interno del capitalismo soprattutto all'interno di processi di lungo corso che sono appunto in parte quelli descritti da Nicolò cioè processi di globalizzazione e di trasformazione degli assetti produttivi complessivi non a caso se parliamo di digitale in termini molto stretti parliamo soprattutto di qualcosa che si è evoluto negli ultimi 50 60 anni e che nasce parzialmente attorno appunto al worldwide web a internet che si sviluppa per due motivi essenziali il primo motivi militari cioè quando i primi esperimenti attorno alla costruzione di una rete digitale sono nati attorno a uno scenario ipotetico di conflitto nucleare cioè come far dialogare fra di loro diversi città diversi punti di comando in caso di attacco e quindi dell'impossibilità di avere un unico centro direzionale dall'altra allo stesso tempo c'era un altro processo che era appunto un processo di espansione di creazione della nuova ondata di globalizzazione che si stava definendo attorno alla cosiddetta rivoluzione logistica cioè il fatto che la circolazione delle merci non era più un elemento finale rispetto alla produzione costruisco un'auto e dopo devo trovare come spedirla no la circolazione arriva prima organizzo delle reti globali del valore per cui ad esempio magari la portiera la faccio in Polonia il vetro lo faccio in Repubblica Sceca l'altra parte dell'asse dell'auto la faccio in Italia assemblo i plezzi e li rivendo in un terzo mercato ancora come si fa a coordinare questa catena logistica diffusa con i dati con le informazioni e questo ha spinto sempre di più alla costruzione di infrastrutture digitali un tempo si parlava di information and communication technology tecnologie della comunicazione dell'informazione c'è quindi un processo di lungo corso che ha portato allo sviluppo di quelle che consideriamo delle tecnologie digitali che ha portato all'accumulazione e gestione dei dati ma non è un processo semplicemente tecnico neutrale è stato un processo politico di economia politica che è rientrato all'interno di alcune trasformazioni più grandi che sono appunto quelle trasformazioni di cui parlava Niccolò cioè della creazione di un mercato globale un mercato globale che poi può voler dire tutto e non voler dire niente comunque la creazione di catene logistiche di catene globali del valore basate su un ruolo centrale della logistica all'interno delle quali poi ad esempio gli Stati Uniti hanno avuto per alcuni anni un ruolo egemone determinante che diciamo ha trovato poi nella caduta del muro il punto diciamo così più alto e anche poi uno dei momenti di trasformazione naturalmente come posso dire ci sono poi temporalità diverse a volte le temporalità politiche che non si sovrappongono totalmente alle temporalità produttive economiche però in alcuni momenti sì e ovviamente diciamo queste trasformazioni produttive hanno avuto diversi step c'è stato negli anni 80 il cosiddetto toyotismo c'è stata la cosiddetta bolla delle dot com negli anni 2000 c'è stata una serie di trasformazioni che hanno portato ad abbandonare quel modello fordista incentrato sulla fabbrica sui tempi di lavoro distinti dai tempi di vita sulla figura dell'operaio come figura di lavoro subordinato e che hanno aperto invece a diverse soggettività a un'esplosione della moltiplicazione delle forme del lavoro una moltiplicazione degli spazi di lavoro e anche a diciamo così una commissione fra scale fra globale locale cosa succede però negli ultimi anni per non fare una storia lunghissima due elementi determinanti la crisi del 2007 e 2008 e la pandemia il digitale termine generico vago dopo il 2007 e 2008 si inizia a parlare di capitalismo delle piattaforme conosciamo il 2007 e 2008 crisi finanziaria che poi si riversa nell'economia reale una crisi che colpisce soprattutto i paesi occidentali europei e Stati Uniti e come in tutte le crisi cosa succede il capitale cerca di riorganizzare i principi produttivi per far ripartire processi di accumulazione e i suoi mezzi tecnici e vengono fuori queste piattaforme che cosa sono delle piattaforme in primis delle aziende delle aziende che però utilizzano soprattutto strumenti digitali per organizzare il processo produttivo ok e accanto al processo produttivo però tradizionale l'uso di forza lavoro affiancano un'altra cosa l'accumulazione di dati l'accumulazione di dati che non serve solo a gestire i lavoratori ma serve a fare soldi cioè i dati comunque accumulati costantemente con qualsiasi interazione noi dobbiamo pensare che ogni volta che usiamo internet lasciamo impronte ovunque non è possibile come muoversi con le dita sporche e quei nostri movimenti sono dati dati che vengono accumulati che vengono poi lavorati e che vengono utilizzati per diversi motivi da profilazioni di marketing a avere proprie operazioni di controllo sociale e di indirizzamento ad esempio dell'opinione pubblica abbiamo visto un caso famoso è campagna statunitense nelle elezioni di Trump ecco lì per esempio è stato molto chiaro l'utilizzo ad esempio di dati e piattaforme per influenzare i processi politici ma l'abbiamo visto in un'ottica diversa anche durante le primavere arabe dove invece quelle stesse piattaforme che erano state utilizzate diciamo in maniera molto conservatrice da un punto di vista politico sono diventate invece aggregatori di una domanda rivoluzionaria sociale quindi attorno a questo periodo 2007-2008 cosa succede? questo digitale diventa sempre di più uno degli strumenti di trasformazione delle forme produttive escono fuori nuove tipologie di aziende se noi prendiamo ad esempio le prime dieci aziende degli anni 90 troviamo tendenzialmente case automobilistiche e produttori di petrolio se andiamo a vedere invece le prime dieci aziende contemporanee troviamo ancora parzialmente aziende energetiche ma troviamo soprattutto aziende diciamo sì le cosiddette big tech Amazon Google Facebook Apple Microsoft e oltre loro ovviamente ce ne sono altre che noi conosciamo di meno ma che in realtà sono grandissime pensiamo a Tencent o Alibaba in Cina per dirne per dirne due c'è stata quindi una industrializzazione dell'internet quello che all'inizio era uno spazio diciamo così di immaginario pirata dell'idea di poter costruire lì liberi dal controllo territoriale dello Stato del Leviatano mondi liberati è diventato sempre di più invece un immaginario un territorio colonizzato da parte del capitale e di grandi aziende secondo passaggio pandemia cosa succede nella pandemia crisi della mobilità non ci si può spostare c'è una difficoltà anche di rifornirsi di merci qual è una delle soluzioni digitalizzazione non lavori più in ufficio utilizzi Zoom utilizzi Teams non puoi cucinare ordini e via dicendo ovviamente abbiamo vissuto come posso dire una grande crescita probabilmente vedremo prossimamente anche una leggera contrazione ma cosa è successo queste aziende queste piattaforme sono diventate ormai infrastrutturali cioè sono strumenti essenziali nella gestione di tutti gli aspetti della nostra vita non è più possibile se noi pensiamo alla nostra giornalativa ci alziamo e probabilmente ci informiamo guardando Instagram Facebook o comunque tramite il web non so quanti comprano i giornali qui ma probabilmente le mani che si alzano non arrivano a 5 se ci dobbiamo spostare utilizziamo Google Maps se dobbiamo andare a visitare un'altra città probabilmente affitteremo su Booking o su Airbnb ormai c'è un ruolo del digitale che non è più un ruolo accessorio ma un ruolo essenziale e se guardiamo davanti a noi Nicolò prima per esempio accennava al metaverso il processo come posso dire è un processo ancora in corso ormai è il digitale che sta cercando di inglobare di mangiare il reale per certi versi se ha ancora senso dividere i due elementi e all'interno di questo contesto ormai il digitale è anche uno dei campi all'interno dei quali si combattono le guerre si utilizzano droni negli attacchi militari ma si fanno anche cyberattacchi ad esempio uno degli elementi che è stato determinante nella guerra di Ucraina fino adesso è la possibilità offerta da Musk con Starlink di accedere a internet ancora su quel territorio sono tutti elementi che possono sembrare discreti ma che in realtà messi insieme compongono un puzzle molto diverso da quello che potevamo avere semplicemente 15-20 anni fa se pensiamo alle piattaforme non esistono da più di 20 anni nessuna di loro pochissime sono quelle che sono sopravvissute alla bolla del 2000 cosa succede? ovviamente hanno cambiato totalmente le nostre forme di vita e anche le nostre forme di lavorare anche se i lavoratori di piattaforma ormai non sono da un punto di vista numerico la maggioranza dei lavoratori sul livello globale rappresentano però una tendenza generale e quello che succede nel lavoro di piattaforma si riversa anche in altri lavori faccio un esempio il cosiddetto management algoritmico cioè gestire il lavoro non tramite un capo che ti guarda e ti dice cosa devi fare ma attraverso tendenzialmente delle app degli strumenti che si portano appresso e che calcolano matematicamente anche la matematica non è neutrale in questi casi quello che va fatto questo ormai è qualcosa che ritroviamo non semplicemente più nel lavoro ad esempio dei rider ma è qualcosa che sta diventando pervasivo in tutti assolutamente i lavori e allo stesso modo questa cosa si riversa nella nostra vita sociale con quante persone siamo in contatto digitalmente con quante persone siamo in contatto con i social quanto è facile a volte allo stesso tempo entrare in contatto con persone dall'altra parte del mondo immediatamente e quindi naturalmente qui si aprono tutta una serie di domande politiche su questo ovviamente c'è un altro elemento prima di arrivare alla conclusione da mettere in luce c'è ogni tanto però la tendenza a ragionare in questi termini il digitale è globale flussi di dati che attraversano il pianeta e poi ci sono i territori i territori che naturalmente si oppongono a volte che indirettamente vuol dire gli stati in molti casi si oppongono e sono una resistenza di fronte allo strapotere di queste aziende è esattamente così io direi di no vi faccio degli esempi il digitale è totalmente immateriale assolutamente no questo lo potrà dire meglio di me e Giorgio ma il primo elemento per far funzionare il digitale sono materie prime senza materie prime non esistono smartphone non esistono computer non esistono datacenter e queste materie prime vengono estratte da alcuni paesi in maniera che sono più un salto all'indietro verso il lavoro servile e schiavile che verso il lavoro digitale secondo elemento tutte queste aziende sono aziende neutrali senza corpo o sono aziende che hanno delle specifiche colleguazioni lo dicevo prima ci sono aziende americane ci sono aziende ad esempio cinesi e per quanto a volte competono nei mercati davanti a noi abbiamo diversi scenari una delle possibilità che si sta palesando davanti è una delle cose di decoupling lo sdoppiamento fino adesso per esempio internet funziona con protocolli e regole stabiliti dagli americani la Cina ad esempio è un paese che ha sviluppato una grossa capacità tecnologica ma non punta a questo la Russia nel momento in cui ha ricevuto sanzioni si è trovata anche a vedere la chiusura delle maggiori piattaforme statunitensi oltre a costruire immediatamente contro piattaforme o a valorizzare altre piattaforme ha pensato a ipotesi di decoupling quindi siamo davanti a un mondo dove in realtà diciamo sì la crisi della globalizzazione è piuttosto un processo di riorganizzazione e il digitale ci entra appieno all'interno di questo processo di riorganizzazione perché non si può pensare di ad esempio ricostruire un mondo su equilibri multipolari senza porsi un problema della gestione del digitale qual è però un punto di vista critico rispetto a questi fenomeni non è semplice elaborarlo negli anni diversi compagni anche militanti hanno elaborato diverse idee c'è chi ad esempio sostiene la necessità di nazionalizzare queste imprese o chi ad esempio ha sostenuto la necessità di costruire delle imprese etiche ogni opzione diciamo ha i suoi pro e i suoi contro io proverò a elencare in chiusura tre elementi il primo il ruolo delle infrastrutture le infrastrutture chi ha le infrastrutture comanda nel capitalismo contemporaneo più di chi ha diciamo i tradizionali mezzi di produzione di fronte ha il ruolo di essenziale infrastrutture di queste infrastrutture c'è un problema della proprietà noi ad esempio usiamo molto spesso social facebook instagram che sono ormai delle piazze globali come potevano essere un tempo le piazze fisiche ma la proprietà di queste piazze è privata totalmente privata abbiamo già visto cosa può nascere poi dall'uso privato e non democratico di questi mezzi c'è un problema di possesso di gestione di queste infrastrutture secondo elemento i principi organizzativi questo è un dibattito tradizionale negli anni 60-70 c'è stato anche per esempio in Italia nel pensiero operaista di fronte a per esempio il partito comunista che sosteneva la necessità del controllo operaio dei mezzi di produzione alcuni compagni come pansieri alcuni compagni che hanno dato vita poi all'operaismo hanno detto non basta prendere il controllo dell'auto dobbiamo cambiarne anche i principi perché questa auto è organizzata con dei principi che sono dei principi di sfruttamento lo stesso vale per le piattaforme non basta pensare le piattaforme semplicemente nei termini di riappropriazione ma anche all'interno di un ripensamento dei loro principi organizzativi e su questo in parte con tutti i loro limiti le due opzioni che nominavo prima forme alternative e possesso delle infrastrutture si toccano terzo elemento lo dicevo prima il ruolo dei dati i processi di valorizzazione sono diventati processi più complessi non c'è più solo il lavoro vivo nella forma tradizionale dello sfruttamento lavorativo ma le nostre attività sempre di lavoro vivo cioè come di dispendio di energie fisiche e mentali producono dati che vengono a loro volta poi utilizzati e sono fonte di profitto quindi ad esempio una semplice dinamica di tassazione sui aspetti lavorativi delle piattaforme non è sufficiente anzi forse è un po' è un guardare con occhi più larghi è sintomatico di un superamento di quello che poteva essere invece un processo diciamo così di accumulazione basato sulla divisione tra tempi di vita e tempi di lavoro allora è possibile pensare a forme di redistribuzione della ricchezza incondizionata e generale come il reddito di fronte invece a processi di erosione del lavoro tradizionalmente inteso riusciamo a guardare in avanti invece che indietro la nostalgia del passato? il bello di parlare dopo Nicolò e dopo Maurilio è che diventa difficilissimo trovare qualche elemento di novità da aggiungere per dare sale alla discussione quindi grazie mille come ho detto prima mi appoggio diciamo su tutto quanto quello che avete detto lo faccio mio quindi mi appoggio su queste basi qua sono completamente d'accordo sulla necessità di trovare strumenti alternativi di andare contro la nostalgia Gandina ad esempio da poco ha scritto un libro interessantissimo riguardo alla nostalgia appunto che prova a capire perché noi come compagni come militanti come organizzazioni politiche abbiamo questa tendenza ad essere nostaldici verso quanto abbiamo fatto nel passato ma non riusciamo a fare quel passo in più per cercare di cambiare le cose esistenti attraverso l'organizzazione attuale e cambiare quindi l'ordine delle cose a quanto diciamo alla cornice che hanno detto che hanno esposto sia Maurilio che Nicolò aggiungo queste tre parole chiave capitale lavoro politica che prese assieme formano la contraddizione del capitalismo contemporaneo che stiamo che stiamo vivendo tutti quanti a livello globale non solo a livello occidentale mettere assieme questa contraddizione vuol dire interrogarci anche sul fatto che la natura non deve più essere intesa come esterna a quello che facciamo esterna alla produzione ma la natura fa parte di tutti quanti i processi produttivi capitalistici e anche della nostra vita quotidiana dell'organizzazione della nostra vita quotidiana perché qualsiasi cosa noi facciamo qualsiasi dispositivo noi utilizziamo qualsiasi tecnologia qualsiasi infrastruttura mettiamo in campo attiviamo mettiamo in gioco l'equilibrio della natura mettiamo in gioco i tempi di riproduzione della natura e quindi continuiamo a mandare oltre quelli che sono stati definiti come confini come soglie naturali di tempi di riproduzione della natura rispetto ai tempi di riproduzione del capitalismo e quindi anche dei nostri tempi della vita quotidiana e qui lo stesso mettiamo in relazione mettiamo in dubbio questioniamo quindi andiamo oltre l'eurocentrismo che sta alla base l'esempio di quella che era stata definita come società post-industriale negli anni 70 questa società post-industriale che sembrava quasi basarsi unicamente sui dati sulla tecnologizzazione sull'automazione escludendo completamente tutto quanto il lato materiale tutto quanto il lato che rappresenta l'altra metà del cielo che è appunto lato dal lavoro vivo non solo dei minatori ad esempio non solo dei lavoratori portuali della logistica eccetera ma anche dal lavoro vivo nella nostra epoca dei lavoratori di piattaforma di quelli che fanno le consegne a domicilio ma anche di quelli che dei cosiddetti crowd worker cioè quelli che allenano costantemente le intelligenze artificiali cioè quelli che contribuiscono a formare il mondo il cosiddetto mondo virtuale che noi utilizziamo quotidianamente quindi devono essere tenuti insieme di questi tre elementi politica natura e lavoro che formano questa contraddizione la natura non deve più essere intesa come qualcosa di esterno rispetto ai processi produttivi come qualcosa di infinito ma deve essere considerato come già diceva Davide nell'introduzione come qualcosa di limitato che noi consumiamo continuamente attraverso i rapporti capitalistici di produzione ma torna anche la questione politica che secondo me con la pandemia e con la guerra di invasione della Russia in Ucraina torna a essere forte torna a essere un elemento centrale per quanto riguarda le strategie globali di riorganizzazione degli assetti perché se noi analizziamo la guerra di invasione di Putin nei confronti dell'Ucraina attraverso le lenti ad esempio della transizione energetica noi possiamo cogliere ad esempio alcuni elementi che sono nascosti attraverso il velo retorico culturale di riappropriazione dei terreni che un tempo appartenevano alla grande Russia all'Unione Sovietica però in realtà a mio parere rappresentano un tentativo di imporsi un tentativo irruento attraverso l'espressione più violenta della politica che è la guerra di dire voi volete fare la transizione energetica io Russia che sono un paese estrattivo che continua a rifornirvi di gas di energie fossili dico aspettate un attimo perché questa transizione va contro i miei interessi nazionali quindi va contro un insieme di legami che sono venuti a strutturare quindi le guerre che rappresentano l'atto più violento e un altro mezzo della politica rappresentano un modo per interrogarci rispetto alla fase attuale e quella della transizione energetica che l'Unione Europea ma anche gli Stati Uniti vogliono attuare e che hanno avuto un'accelerazione soprattutto durante la pandemia la pandemia magicamente ha risvegliato nella classe politica la consapevolezza che la natura è qualcosa di finito che l'urbanizzazione planetaria l'antropizzazione la continua espansione dell'attività umane che vanno oltre le soglie naturali hanno delle conseguenze che appunto possono bloccare completamente il capitalismo globale attraverso scelte politiche come il lockdown il lockdown rappresenta una scelta politica che irrompe nelle scelte nell'organizzazione globale nelle catene di produzione nelle catene del valore del capitalismo che rompe queste catene qua e quindi pone in essere una serie di quesiti di contraddizioni che noi come organizzazioni politiche come militanti come compagni abbiamo sollevato ci solleviamo da più di 50 anni per arrivare anche Marx Marx ne parlava abbastanza chiaramente secondo me però la pandemia ha reso esplicite queste contraddizioni qua e la digitalizzazione come è già stato detto da Maurizio come è già stato detto anche da Niccolò rappresenta uno dei vettori individuato ad esempio dalle autorità politiche europee per la tradizione energetica perché sembra che la rimodulazione digitale delle relazioni sociali che noi prima effettuiamo faccia a faccia non abbia conseguenze che si basi appunto sull'ettere che sia completamente virtuale che sia completamente staccato rispetto al mondo materiale dei minerali del lavoro vivo delle menti e delle braccia dei lavoratori che dalla miniera fino al lavoro di chi ti consegna la pizza rappresentano uno degli assi principali appunto dell'estrazione dell'accumulazione di valore la digitalizzazione è tutt'altro che immateriale la digitalizzazione non è opposta il mondo virtuale il mondo digitale non è opposto al mondo materiale ma sono due sfere sono due domini che sono consustanziali l'uno non può esistere senza l'altro è impossibile immaginare il capitalismo digitale le forme che ha assunto adesso la possibilità di tessere le relazioni sociali che noi tessiamo adesso senza considerare senza prendere in considerazione gli spazi quelli che devi darvi ad esempio definito spazi di produzione devi darvi secondo me ho utilizzato negli anni 90 una definizione estremamente efficace che è quella di andare oltre il reame dell'esperienza immediata andare oltre il reame dell'esperienza immediata ed individuale vuol dire semplicemente interrogarsi come persone rispetto al semplice destro di fare click di ordinare su just it una pizza di caricare sul cloud computing di qualsiasi impresa dell'hitech un dato di utilizzare qualsiasi servizio di cloud computing di inviare una mail di inviare un whatsapp questi gesti qua che sembrano apparentemente virtuali che sembrano apparentemente immateriali che sembra che non abbiano conseguenze hanno conseguenze estremamente rilevanti non solo sull'ambiente ma anche sulla forza lavoro globale sul lavoro vivo che rende possibile le infrastrutture social materiali e le infrastrutture fisiche alla base dei processi di digitalizzazione quindi bisogna interrogarsi su quelle che possiamo definire come sfruttamento delle risorse umane e ambientali lungo le catene di produzione delle tecnologie digitali quindi il digitale a mio parere deve essere inteso come un'industria globale quindi deve essere appunto inteso come capitalismo il capitalismo digitale presuppone lo sfruttamento cioè quello che avveniva prima della digitalizzazione di massa avviene anche adesso solo che assume contorni che sono stati definiti glamour fare all'inizio si parlava di sharing economy di condivisione tra pari di beni sottoutilizzati di logiche che erano esterne alla logica di mercato però in realtà molto presto sono state sussunte dalla logica capitalistica e quello che era glamour cioè fare la consegna a domicilio tramite l'intermediazione di una tecnologia che quindi potrebbe sembrare qualcosa di estremamente moderno di imprenditore di se stesso dopo poco tempo si è rilevata una pallaccia completa nel senso sono emerse tutte quante le condizioni estremamente precarie la povertà lavorativa la dequalificazione del lavoro la carenza di protezione sociale che questa coinvolge cioè è internazionale nel senso che vale negli Stati Uniti come vale in Europa nel contesto della società salariale europea con la strutturazione particolare che ha assunto durante i 30 anni del secondo dopoguerra con l'estensione di tutte quante le sfere dei diritti sociali e anche dei diritti civili quindi quando noi parliamo di digitale dobbiamo tenere in considerazione dobbiamo tenere assolutamente a mente un passaggio chiave che è quello di andare oltre il reame dell'esperienza immediata e tenere assieme valutare considerare l'insieme di queste relazioni sociali di sfruttamento sia del lavoro che della natura dalla estrazione mineraria dei cosiddetti minerali critici in Congo in Bolivia in Argentina in Australia in Ucraina eccetera fino ai lavoratori della logistica i lavoratori portuali i lavoratori che assemblano i pacchi nei magazzini Amazon così come i lavoratori che addestrano l'intelligenza artificiale così come i lavoratori e le lavoratrici che ti consegnano a casa il pacco che ordini oppure la pizza o qualsiasi cosa che tu ordini quindi un semplice click che sembra un gesto completamente innoco attiva tutte queste condizioni qua che hanno un impatto rilevante sull'ambiente l'ambiente quindi la natura non deve più essere intesa come qualcosa di separato deve essere posta come uno degli elementi centrali che stanno alla base della strutturazione del capitalismo digitale senza lo sfruttamento della natura senza l'esaurimento continuo senza superare continuamente le soglie della riproduzione delle risorse naturali il capitalismo digitale ma il regime di accumulazione capitalista in generale non potrebbe esistere con questa forma qua la politica secondo me è emersa in maniera eclatante durante la pandemia ad esempio con la scelta della Cina inizialmente di fare un lockdown lì e poi con la scelta dei paesi occidentali di effettuare i vari lockdown che hanno rotto un certo schema una certa retorica per il quale le catene di produzione basate sul just in time fossero qualcosa di infinito di qualcosa che funzionava a prescindere da qualsiasi contesto invece hanno messo queste scelte politiche effettuate anche attraverso strumenti nazionali degli stati nazioni hanno messo in evidenza il fatto che le catene di approvvigionamento basate sulla logica io produco sulla base della domanda proveniente dal mercato rendono completamente supini gli stati che non hanno materie prime che sono diciamo così il cosiddetto nord globale che comunque ha esternalizzato negli ultimi 50 anni continuamente la fase di produzione il know-how le tecnologie in Cina nel sud asiatico nel Sud America in Turchia eccetera ha reso completamente supine questi stati qua abbattendo sulla quotidianità sulla vita quotidiana delle popolazioni della classe lavoratrice eccetera una condizione di precarietà che prima d'ora forse non aveva sperimentato con questa tensione anche perché appunto si condensano una serie di contraddizioni una serie di crisi che giustamente Nicolò ha posto in questione non è definibile semplicemente come crisi questa condizione qua perché siamo in una condizione di completa dipendenza rispetto a qualcos'altro che non riusciamo a governare direttamente quindi questo secondo me diventa una questione centrale anche per quanto riguarda l'organizzazione politica per quanto riguarda non la gerarchia dei valori perché chiaramente non possiamo fare una gerarchia dei valori perché ad esempio la lettura di classe del nostro tempo la lettura femminista del nostro tempo la lettura ecologista del nostro tempo devono essere poste sullo stesso livello però dobbiamo essere secondo me in grado di porre una gerarchia delle aziende cioè di riuscire a capire qual è la leva attraverso la quale generalizzare un conflitto la leva attraverso la quale riuscire a coniugare riuscire a ribaltare le contraddizioni che ormai stiamo subendo da diversi decenni e riappropriarci in qualche modo anche della capacità di costruire queste infrastrutture di costruire queste tecnologie qua l'esperienza del capitalismo del cooperativismo di piattaforme è un'esperienza interessante che va in questa direzione qua che però secondo me manca ad esempio di un elemento centrale che è quello della scalabilità cioè perché Amazon è riuscito a imporsi come un impero Amazon è riuscito a imporsi come un impero perché o anche Uber anche le piattaforme del food delivery perché sono riuscite a muoversi tra le trame normative transnazionali e nazionali basate sulla produzione sistemica di forme contrattuali estremamente precarizzanti a sfavore della classe lavoratrice e a favore invece delle imprese che hanno fatto in modo di rendere scalabile il modello organizzativo di Amazon e del capitalismo di piattaforma che invece pone in difficoltà un modello tra virgolette più etico un modello che si basa sulla dignità del lavoro come può essere quello del cooperativismo di piattaforma oppure quello che anche più recentemente è stato definito socialismo di piattaforma cioè la capacità di riuscire a governare queste tecnologie ribaltare l'utilizzo che le imprese capitalistiche fanno di queste tecnologie di queste infrastrutture e metterle porle in chiave emancipativa per la classe lavoratrice comunque per tutti quanti coloro che non sono dall'altro lato della barricata per tutti quanti coloro i quali non sono le imprese del capitalismo di piattaforma quindi secondo me per riassumere un po' tutto quanto quello che è stato detto fino a qua secondo me i tre punti essenziali che devono sembrano scontati e infatti forse non li nominiamo così spesso ma devono essere continuamente ribaditi sono quelli della natura della politica del ruolo della politica che durante la pandemia ha riacquisito una centralità anche attraverso appunto il suo utilizzo estremo come la forma di guerra ma anche attraverso la forma di lockdown quindi una limitazione totale della mobilità delle persone la natura che non deve più essere concepita come qualcosa di infinito come qualcosa di esterno rispetto ai rapporti di produzione ma che è consustanziale alla conformazione che assume il capitalismo digitale o il capitalismo di piattaforma e quindi ha la possibilità di renderlo tale e il lavoro perché il lavoro chiaramente rappresenta il lavoro vivo rappresenta la spina dorsale della strutturazione del capitalismo che va dal minatore delle miniere artigianali del Congo dal minatore delle miniere più industrializzate nel Sud America o in Australia dal lavoratore di piattaforma dal lavoratore della logistica che anche con una differente diciamo composizione organica del capitale con una differente composizione sociotecnica dell'organizzazione del lavoro rappresenta continua a rappresentare la spina dorsale della conformazione del capitalismo digitale e ci permette in questo modo di dire di rispingere quella che è l'ideologia californiana quella che hanno descritto benissimo Maurilio e Nicolò per cui sembra che il digitale sia qualcosa che rende possibile in maniera astratta le capacità individuali delle persone che si oppone alle costruzioni materiali dell'epoca passata che rende liberi che rende libera la possibilità della creatività dell'individualità del soggetto in maniera astratta noi dobbiamo opporci a questa ideologia qua che non tiene conto appunto dell'insieme delle contraddizioni che stanno alla base dello sfruttamento delle risorse umane ambientali del digitale per dire noi esistiamo il lavoro vivo esiste la natura è una parte essenziale di questo di questo insieme qua dobbiamo riuscire a dare voce alla natura per dire queste soglie non possono essere superate ulteriormente dobbiamo tornare indietro dobbiamo bloccare tutto dobbiamo ribaltare la concezione che viene data di questo capitanismo digitale dell'ideologia californiana per cui sembra che tutto quanto sia bello tutto quanto sia glamour tutto quanto sia immateriale sia effettuato attraverso le tecnologie digitali o l'intermediazione delle tecnologie digitali e via discorrendo quindi secondo me è necessario mettere in questione questa ideologia qua ribadire che il lavoro vivo la natura la politica sono ancora tre elementi tre pilastri essenziali della lotta politica e individuare le forme sociotecniche le forme tecniche le forme organizzative più adatte attraverso cui generalizzare la lotta il caso della GKP può essere un esempio molto interessante da questo punto di vista perché riesce a mettere assieme la questione ecologica la questione lavorativa nel senso stretto ma secondo me la questione delle piattaforme digitali di una riappropriazione di questo tipo di tecnologie secondo me è centrale per ribadire per proporre un'alternativa allo stato di cose esistenti ringrazio a nome mio a nome di Radio Sherwood della comunità politica di cui faccio parte grazie a tutti grazie a tutti